signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale negli ultimi mesi abbiamo parlato nella rubrica del d20 system in maniera molto approfondita degli incontri gli incontri però non sono qualcosa che riguarda solo dungeons and dragon e i suoi derivati tutti i giochi che hanno un'impostazione a dungeon e la maggior parte dei giochi dello school si basano sulla logica degli incontri indipendentemente da quale sistema state usando è giunto quindi il momento di cominciare a parlare degli incontri anche qui sulla rubrica dell'arte del masteraggio per vedere non tanto la logica meccanica a cui rispondono ma la loro funzione all'interno della narrazione e il loro costo nell'economia del racconto da questa settimana iniziamo quindi a vedere come si preparano gli incontri preparare gli incontri e scriverli e probabilmente l'attività tra quelle che il master deve svolgere durante la campagna che vi impegna materialmente più tempo sicuramente ci vuole molto più tempo a ideare la storia a ideare l'ambientazione del mondo e magari anche in pratichistico le regole del gioco che state utilizzando ma normalmente tutte queste sono attività che vengono fatte prima di iniziare la campagna vera e propria quindi il master non ha problemi di tempo dovuti alla scadenza settimanale della quest gli incontri veri e propri invece è sempre meglio definirli prima in maniera vaga ma poi mettersi a scriverli di volta in volta in base all'attuale esigenza della campagna una volta che la campagna è iniziata voi come master non avete più il totale controllo su quello che succederà il party potrebbe essere più o meno equipaggiato più o meno forte rispetto a quello che avevate previsto e dato che la storia dipende in larga parte dalla volontà dei giocatori è possibile che comincino a succedere fatti a cui voi non avevate potuto pensare precedentemente e che quindi non avete avuto la possibilità neanche di preparare in linea teorica allo stesso modo la volontà del party potrebbe fare in modo che anche degli incontri che voi avevate precedentemente pensato adesso non abbiano più senso di esistere o che funzionino in maniera sostanzialmente diversa rispetto a quello che voi avete preventivato fondamentalmente questo vuol dire che siete costretti a scrivere gli incontri se non di settimana in settimana al massimo con qualche settimana d'anticipo in base a come funziona nello specifico la vostra quest e quindi fondamentale che il metodo che voi utilizzate per creare questi incontri non solo sia il più veloce ed efficace possibile ma che anche gli incontri stessi che andate a preparare siano sufficientemente malleabili da adattarsi a diverse situazioni e diverse esigenze di storia questo non vuol dire che non potete preparare prima i singoli mostri e che non potete prevedere prima l'esatto modo in cui questi verranno utilizzati sul preparare preventivamente i mostri c'è molto a dire quindi diciamo che questo sarà l'argomento del video della prossima settimana tra due settimane per ora concentriamoci solo sulla preparazione degli incontri nel loro complesso dato che la vostra primaria preoccupazione è il tempo dovete sempre cercare di sprecarne il meno possibile dividete tutti gli incontri che prevedete che i vostri giocatori dovranno affrontare nel breve periodo in tre categorie gli incontri sicuri gli incontri probabili e gli incontri possibili gli incontri sicuri sono tutti quelli che in un modo o nell'altro i vostri giocatori saranno costretti ad affrontare sia perché formano dei passaggi fondamentali della trama sia perché posti in dei passaggi obbligati all'interno del vostro mondo di gioco se la vostra quest prevede che gli avventurieri risolvano il mistero dell'omicidio alla villa della contessa potete essere sicuri che a un certo punto della quest loro andranno a raccogliere indizi alla villa della contessa a quel punto tutto il personale della villa è un incontro sicuro interrogeranno tutti e interrogeranno anche tutti quei png che il personale indicherà come possibili sospetti al di là di questo ogni singolo indizio che voi decidete che i giocatori dovranno trovare all'interno della villa sarà anche quello un incontro sicuro allo stesso modo se i vostri avventurieri per spostarsi da pianeta a pianeta devono andare allo spazioporto e imbarcarsi su un'astronave siete sicuri che durante la quest loro prima o poi andranno allo spazioporto quindi potete considerare qualunque incontro debba svolgersi allo spazioporto un incontro sicuro gli incontri sicuri sono i primi su cui dovete mettervi a lavorare e sono anche quelli a cui dovete dedicare più tempo i png devono avere le personalità più sviluppate i retroscena più studiati i mostri devono avere le tattiche migliori per combattere contro il party gli ambienti devono avere le descrizioni più accurate vedremo poi più avanti come rendere al meglio tutte queste cose ma per adesso ricordatevi che questo è il grosso del vostro lavoro dato che queste sono parti che sicuramente gli avventurieri vedranno nel corso della quest sono quelle che meritano il massimo del vostro impegno gli incontri probabili sono quelli che rappresentano la maggior parte degli incontri all'interno della vostra quest sono tutti quegli incontri che i giocatori potrebbero fare o non fare in base a cosa decidono e come decidono di proseguire nella loro avventura se non fate attenzione questi incontri potrebbero diventare un vortice che risucchia tutto il tempo che avete a disposizione per scrivere se non più tempo ancora di quello che avete effettivamente a disposizione per scrivere per prima cosa dimenticatevi l'idea di scrivere incontri alternativi l'uno all'altro quella è una mentalità che si applica allo sviluppo dei videogiochi non ai giochi di volo cartacei viene fatto per aumentare la rigiocabilità del gioco nel senso che diverse decisioni portano a diversi rami della storia ma nel vostro caso questo problema non esiste voi non avete problemi in rigiocabilità una volta che i giocatori hanno deciso di intraprendere un percorso il percorso è quello anche nel caso che voi riproponiate la stessa identica quest in futuro a un altro gruppo le possibilità che di scelta per un gruppo di giocatori del cartaceo sono tante e tali che o preparate migliaia di incontri possibili o l'unica cosa che potete fare è concentrarvi solo su quello che effettivamente i giocatori hanno scelto in quell'esatto momento di quest il trucco in questo caso è scrivere degli incontri che si possano adattare alla maggior parte delle situazioni possibili all'interno di una quest se i vostri giocatori devono introdursi nottetempo nella fabbrica della mega corporazione rivale per andare a sabotare gli impianti di produzione non ha senso che voi vi mettiate a scrivere un incontro diverso per ogni possibile strada per ogni possibile percorso che possano fare per introdursi nella fabbrica vi basterà scrivere un incontro con delle guardie notturne e poi piazzare questo incontro lungo la strada che i giocatori hanno scelto di seguire e anche se i giocatori decidono di non proseguire per quella strada potete usare lo stesse guardie che avete preparato per quell'incontro come sabotatori che vanno a sabotare la base dei pc invece di difendere la base dai pg allo stesso modo non è necessario che voi create un png alleato che aiuti pg per ogni possibile fazione all'interno del gioco potete benissimo creare un singolo png alleato e poi cambiare quel minimo che serve la sua descrizione il suo comportamento in modo che si adatti a ogni possibile fazione e poi farlo comparire una volta che i giocatori hanno fatto la scelta su quale fazione supportare ad esempio la motivazione del png potrebbe essere quella che aiuta il party perché la fazione loro nemica ha nel passato fatto a lui un orto e adesso lui vuole vendicarsi l'unica cosa che cambierà sarà qual è il nome della fazione che gli ha fatto un torto che sarà sempre la stessa che è diventata nemica dei giocatori sicuramente questi incontri non potranno essere dettagliati come gli incontri sicuri però in questo modo voi avrete la sicurezza di avere sempre degli incontri pronti e soprattutto di risparmiare molto tempo nella fase di preparazione della quest gli incontri possibili non fanno parte della linea di narrazione principale della storia quindi non è necessario che il party di incontri però possono tornare utile per ribadire qualche elemento della narrazione o per sottolineare il tono della campagna mentre i vostri avventurieri viaggiano per il regno invaso dalle armate del malvagio barone potrebbero incontrare delle colonne di soldati diretti al fronte o essere attaccato da dei disertori che si sono dati al brigantaggio magari il party non è assolutamente interessato alla guerra e la loro missione la quest non riguarda direttamente lo scontro tra i due regni però questi incontri servono a ricordargli che c'è una guerra in atto e magari a fornire degli elementi che saranno utili più avanti se loro magari alla fine verranno coinvolti in questa guerra questo genere di incontri può anche essere utile per prendere tempo nel caso abbiate calcolato male i tempi della sessione e quindi vi trovate con meno materiale di quello che effettivamente vi serve per chiudere la serata oppure nel caso gli avventurieri abbiano fatto una cosa realmente inaspettata e quindi vi trovate a non avere alcun materiale utile per farli giocare nell'immediato magari voi avete in una descrizione d'ambiente citato un lontano pianeta perché pensavate di inserirlo più avanti nel corso della quest ma i vostri avventurieri decidono di mollare tutto quello che stavano facendo per andare immediatamente a visitare quel pianeta pianeta prendendomi in contropiede in questo caso è utile avere preparati degli incontri con un'anomalia spaziale o un'astronave dei pirati che potete far giocare immediatamente ai giocatori durante il viaggio verso il nuovo pianeta in modo da avere il tempo di finire la sessione per quella giornata e quindi avere poi il tempo fino alla prossima sessione per preparare come si deve il nuovo pianeta questi sono gli incontri su cui è meglio che voi perdiate il meno tempo possibile ed è anche legittimo che siano sviluppati meno negli altri in realtà questo è lo specifico non è neanche necessario che sviluppiate di volta in volta magari durante la fase di preparazione di campagna scrivetevi due idee su degli incontri possibili e poi dopo che ne avete una lista usateli di volta in volta quando vi servono finché non l'avete esaurita e poi scrivetene altri facendo in modo che abbiano senso per il tono e per i luoghi alla campagna ma senza preoccuparvi fin troppo dopo tutto sono cose che usate per allungare i tempi o per sottolineare specifici concetti diciamo che per questo video è tutto come sempre ho parlato fin troppo ma l'argomento è incredibilmente vasto quindi lo porteremo avanti anche nelle prossime settimane considerate questo video una sorta di introduzione generale agli incontri tra due settimane sempre nella rubrica dell'arte del masteraggio andremo a vedere come scriversi i propri bestiari personalizzati per i mostri fino ad allora mi piacerebbe sapere da voi come fate voi organizzare i vostri incontri durante le campagne se usate questo metodo se ne usate un altro se usate metodi diversi in base a sistemi di gioco diversi se avete modi per non perdere di qualità nonostante i tempi ristretti come sempre se avete domande dubbi perplessità scriveteli nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate la campanella se non volete perdervi i prossimi video io sono il mastercae noi ci vediamo nel prossimo video